Dottor Paolella, secondo lei il Patenbox valorizzerà le aziende italiane e il Made in Italy? Potrà valorizzarle in effetti perché è una particolarità del Patenbox nella normativa italiana quella di agevolare anche i marchi in difformità rispetto al comando dell'Ox, ma è stata una sfida forte del nostro governo, in particolare del Ministero delle Attività Produttive proprio perché il nostro Made in Italy si basa essenzialmente e in maniera molto importante quantomeno sul valore del brand più che non magari della tecnologia industriale e di altri intangible collegati all'attività produttiva e in questo quindi c'è una forte attrattiva del meccanismo del Patenbox è sicuramente una misura che è in grado di effettivamente rendere più competitive le nostre imprese e motivarle nel mantenere intanto per chi ha comunque mantenuto la proprietà dei marchi e degli IP in Italia a continuare a farlo e anche alcune aziende stanno pensando effettivamente seriamente e forse attendono un po' di vedere l'esito dei primi accordi preventivi con l'amministrazione per magari trasferirli fin tanto che, in particolare per i marchi, fin tanto che naturalmente sarà consentito dalle normative comunitarie. Grazie. Grazie a voi.